L'azione fondamentale che se ne ricava da questi tipi di protocollo è la sensibilità della coscienza, una coscienza che deve essere proattiva per il bene sociale e anche e soprattutto ambientale. I Ferrarelli in qualche modo candida il proprio stabilimento di Riardo come una sorta di laboratorio a disposizione delle competenze, delle professionalità, del prestigio dell'Università Vambitelli, di tutti, compreso gli studenti, i quali possono avere idee e quindi attraverso le loro idee dare un contributo interessante per la crescita dello stabilimento in chiave sostenibilità ambientale. È la prima volta che Ferrarelli fa un accordo del genere a livello di Ateneo, un'azienda che da anni predica e attua la sostenibilità e che incontra un Ateneo che della sostenibilità fa il suo punto di orgoglio. Grazie.